E siamo arrivati all'ultima parte, quindi la quarta di questo tristissimo box Davvero, se non fosse per un botto di Olo che ho trovato, ho trovato solo una livello X in tre quarti di box E' molto triste Guardate ragazzi, mancano 9 pacchetti, io non so se troveremo qualcosa in questi 9 pacchetti Perché per come è andato il box è possibile che trovo solo delle Olo e non trovo neanche una livello X in questi 9 pacchetti Può essere, visto come è andato tutto l'intero box, non vi sorprenderebbe Allora, andiamo Sialio, Tropius, Vigoront, Aipom, Snuront, Sensory, Skull Fossil, Pichu, Quilava Reverse e Abomasnaur, Raro Araro Proseguiamo Quick Ball Anonti Anonti Darkness Energy, Paron Scensi Krogunk Snorant Sindaquil Scensi Reverse E c'è il mezzo Raro C'è il mezzo Poi vedete che quest'ultima parte non sono né livello X e né Olo Se sono solo rare, giuro che non lo carico l'ultima parte Proprio, giurissimo Golbat Metal Energy Dance Pairs Bidoof Pichu Execute Remorade Totodile Totodile E Agronolo Ok, allora la carico Toto la Olo Quindi non posso non caricarlo Proseguiamo Vediamo Lake Boundary Vigoroth Golbat Execute Sindaquil Pikachu Dodu Remorade Gabite E Whiskash Raro Guardate com'è diverso questo Whiskash Da Quello che c'è adesso su scontri primordiali Al Fart Qua c'è la faccia da scemo Gravele Sialio Magmar E Aridaie Cicorita Nidoran Femmina Zlacot Zlacot Aron Type Luzio Reverse Uh, bellino Luminion Olo Bellina sta Olo Verifiga Verifiga Proseguiamo Io ancora non vedo niente Ragazzi Io non lo so Ma davvero Oh Finalmente c'è qualcos'altro Magmar Due livello X In un intero box Ragazzi Croconav Team Galactus Swagger Swizzle Wulpix Gible Shinx Totodile Mantae Reverse Oh Ma almeno Lucario Livello X Una delle livello X più belle Eh Ci voleva Lucario livello X Insomma Eh che cavolo Cioè mi rendete conto Due livello X su 36 pacchetti Cioè è allucinante sta cosa È veramente allucinante Ho capito che tesori perduti però Ma davvero Qua sono stra perduti Oltro che E abbiamo Shinkling Parasect Octillery Zubat Eccolo qua Muore affogato Paras Teddiurza Snover Shinx Reverse E Unknown E Come vedete Siamo al penultimo pacchetto Ma Non credo di trovare un altro livello X Sicuramente Posso sperare in una holo In due pacchetti Vediamo Cosa possiamo trovare Cosa possiamo trovare Night Maintains Girafarig Sheldon Magby Abra Calabria Cricket Sfilla Bronzor Octillery Reverse Non ci mancava E Warrain Laro Ultimo Pacchettino Ultimo Pacchettuzzo E andiamo con Parasect Sesslash Sesslash Unknown Cricketut Nidoran Femmina Geodud Scensi Sil Slagot Reverse E chiudiamo con Un Ursaring Raro Allora ragazzi Diciamo che questo Tesoro i misteriosi Boh Fatto un po' Cagare Un po' tanto Però comunque A me Serviva questo set Quindi poi Le altre livello X E le altre holo che manco Le recupero in un altro modo Sicuramente Spero comunque che Mi stia piacendo Il fatto che non vi porto Sempre I soliti set Semplici Ma comunque Facciamo un po' di Cambiamento Nei set Per interrompere La monotonia Rimanete sempre Sul canale di Pokeshine Non riesco più a parlare Mettete like Commentate Iscrivetevi Iscrivetevi Perché E' in arrivo La raffle opening Di scontri primordiali Ciao a tutti raga